Bilancio positivo relativamente all'affluenza turistica registrata nella giornata di Ferragosto a Belluno, complice anche il meteo favorevole. A dichiararlo sono alcuni dei titolari dei locali del centro che sono rimasti aperti durante la festività. All'Astor mi sembra abbastanza bene, il movimento c'è stato, faceva tanto caldo, però a pranzo non moltissimo, ma alla sera abbiamo visto che la gente cercava il fresco verso il piave, era pieno, anche nei giorni precedenti era molto bene. Quando fa caldo qua è bello, il bar si riempie, quando piove chiaramente i spazi sono un po' più limitati. Diciamo che è andato bene, il turismo generalmente c'è stato, sia tedesco, sia inglese, sia francese, un po' misto. Ma è andato bene, ieri noi eravamo anche chiusi a pranzo, però la sera ha avuto un buon afflusso di clienti. Turisti stranieri quest'anno tanti francesi. Un turismo variegato che ha registrato, a detta degli esercenti, un lieve calo rispetto al 2022, complice forse l'aumento generalizzato dei prezzi. E diciamo che forse leggermente in calo rispetto all'anno scorso, ma siamo in media comunque, insomma, l'afflusso è buono. E' mancato mi sembra un po' la gente più italiana, diciamo. Sicuramente l'incaro generale e la pubblicità negativa che si fa attualmente è sicuramente in Ciri anche quello.